Sviluppando via in assambiente, però anche noi quando riuscivamo a ripartire, insomma la nostra partita la stavamo facendo, sicuramente abbiamo iniziato a commettere troppi errori di misura, di passaggio, abbiamo concesso di due tre ripartenze con palla nostra, facendo degli errori banali, chiaramente la sangra ha preso l'incoraggio in questo momento, è una squadra che è stata piena su tutti i punti di vista, ha fatto un gol dove eravamo schierati e non abbiamo difeso bene, poi chiaramente il secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosa in più, ma il rigore su questa indietà, una palla inattiva ha compromesso un po' più con l'andamento della gara. Sì, abbiamo fatto qualche errore sicuramente, ma non solo dalla linea, anche con centrocampisti due o tre volte abbiamo fatto gli errori. Abbiamo fatto qualche errore sicuramente. Stupito dalla posizione di Massimo che iniziava. Come scusi? Stupito dalla posizione da Malzonovi. No, San Benetese ha ottenuto l'ossatura dei tre attaccanti che poi abbia messo un altro tipo di giocatore che non aveva giocato nell'ultima gara, quindi probabilmente era più fresco, però aspettavamo che potesse giocare uno o l'altro. Quello è il discorso. Senta, le macchie lo rivolgono fortuna, lo pare che deve essere a fare i 10 e oggi. Le uniche due scompitte da stesso. Sì, al momento sì, ma questa è stata una partita un po' diversa rispetto a quella di Fano. Abbiamo, ripeto, fatto troppi errori a livello individuale anche nella costruzione del gioco. Questo, di solito, non avevamo fatto così tanti errori, ma anche quando in fase avanzata avevamo delle situazioni da poter sviluppare meglio, abbiamo sbagliato anche un passaggio molto semplice. Mi dà che a prova contano più i nomi o a correre? Contano tutte e due le cose, sicuramente correre la squadra oggi in corso, non è quello che è scorso. Mentre, l'islamino è un'altra domanda. Faccio due domande. La prima è, se lei si sente a rischio, 10 punti da 8 partite sono in finalità, direi, sicuramente molto migliori. E la seconda cosa è perché sostituire Alpiniera? Sta diventando un caso, Alpiniera. Sostituito a termo, sostituito anche oggi. E' un problema perché il giocatore non rende come dovrebbe, oppure perché lei voleva tentare accanto a qualche altro assoluto? Ma no, eravamo Alpiniera, partiamo dall'ultima domanda. Alpiniera non è sicuramente un caso, ci mancherebbe. Io me ne ho in questo momento tre attaccardi. Aveva iniziato, ha fatto quasi tutta la gara a Teramo. Erano passati due giorni, sicuramente aveva bisogno, ho visto che era un attimino in difficoltà, sotto certi punti di vista. E ho preferito mettere il Germinale dopo 18 minuti del secondo tempo. Non è assolutamente un problema altiniero, Germinale o più per essi. Per quanto riguarda la prima domanda, ripeto, nel nostro lavoro siamo sempre comunque in discussione. Dobbiamo continuare a lavorare sereni, a mettereci il massimo di impegno perché sappiamo che dobbiamo analizzare questa partita troppo l'unerina per un'altra. Sì, ma lei è andato bene. I tifosi hanno chiamato Giunta, sono chiamato la squadra e hanno fatto capire chiaramente che vogliono altre cose. Allora le chiedo, lei è tecnico. Quindi in questo momento, con il risultato, con il risultato... Grazie, grazie. Ma ripeto, dal primo giorno che uno allena, che deve sentirsi in discussione, siamo sempre in discussione. Noi allenatori, giocatori, nelle scelte, facciamo parte del nostro lavoro di essere in discussione. No, siamo partiti bene. Abbiamo iniziato bene, cercando di proteggiare, di fare il nostro gioco. A un certo punto abbiamo dato il coraggio e sono usciti fuori anche loro. Bisogna anche dare merito alla loro squadra. In questo momento sono in salute, giocano bene, soprattutto in club. con lo tifoselino. Noi sicuramente possiamo fare molto di più. Quello non ci dure, non ci possiamo nascondere. Come mai sono due? Non c'è niente da dire. Credo che è una sconfitta che brucia, ma non dobbiamo fare un dramma di questo risultato. Purtroppo durante un campionato capitano questi momenti così. Il nostro sta durando un po' troppo, secondo me. Però già lunedì abbiamo l'occasione di cambiare marcia, di capire che questa campionata è così. Non ci sono i nomi, non ci sono i fenomeni, c'è il campo, è l'agonismo e bisogna onorare la maglia. Adesso dai 95 pesi, in fin quando avrebbero fischiato. Senti, avete preso un gol, il primo, molto bello, per carità, per cosa però, con degli errori di troppo da parte vostra. Quello che lascia parecchio per il player, è che voi non siete più capaci di recuperare il risultato. Una volta andati sotto, fino al rigore, non si è visto che poteva trittare di riportare la partita sui binari per la qualità. Il gol sicuramente è nato da due errori. Quello è capitato anche altre volte in questo campionato. Durante tutta la partita loro hanno creato sopra i nostri errori. Abbiamo sperato passaggi di 5 metri, quindi loro hanno approfittato, hanno preso fiducia, hanno preso coraggio. Noi un po' ci siamo abbassati nel primo tempo, già non siamo riusciti a recuperarti perché è bene quello. Se magari sbagli tanti passaggi, sbagli tante cose semplici, vai in difficoltà perché poi perdi anche un po' di coraggio e anziché alzarti ti abbassi un attimino. Quindi credo che dobbiamo migliorare su questo aspetto qua, di cercare di avere un equilibrio tra le parti, soprattutto perché non gioca solo a difesa o a centrocampo, gioca con gli undici. Quindi quello che bisogna trovare in questo momento è l'equilibrio e la pazienza di sapere che con questo campionato non è che prendi la palla e vai a fare gol. Sai che difficoltà ci sono, le squadre sono organizzate bene e liberano di dare sopporto. Senti, l'allenatore, insomma, mi viene messo un po' in discussione già dei tifosi da parte partita. Ci mettiamo in discussione noi giocatori. Noi siamo tutti insieme, non siamo un po' allenatore. Credo che i giardinieri del campo e la gente che lavora dietro le quinte sono tutti insieme. Non c'è l'allenatore, non c'è la squadra a reparti. Siamo tutti insieme. Ci mettiamo tutti in discussione, non solo l'allenatore. Se devono mettere in discussione, ci mettiamo tutti perché è troppo facile prendersela con il mister o prendersela con la preparazione atletica perché magari la preparazione atletica è stata fatta male come abbiamo sentito anche in altre volte. Ci mettiamo tutti in discussione, abbassiamo la testa e pensiamo a cambiare marcia, a cambiare ruota perché così non va bene. Non va perché... Cosa suggeriresti? Tu hai giocato in piazza anche a Cazzo, a Livorno, che non era certo una piazza tenera. Siete andati sotto la curva, gli hanno detto che vedi che hanno di più, gli hanno chiesto di fare... Giustamente, giustamente loro... Cosa faresti con questa situazione? Perché voglio dire, tutti in discussione, d'accordo? Però le prestazioni, Mantua e questa di oggi, lasciano veramente, scusami, non so, Mantua. Lo dico, lasciano molto desiderate. No, no, ma io non so... Sono sconcertanti come prestazione. Non sto dicendo... Non sto dicendo che ci mettiamo in discussione per mettere le mani avanti, per magari impararmi il culo. Quello ci manchirete. Io dico che la gente ha messo il mister in discussione, noi ci mettiamo tutti in discussione. Il mister va fino a un certo punto, poi in campo ci andiamo noi. Siamo noi che dobbiamo capire quello che dobbiamo fare in campo. Se le cose non girano, non c'è un colpevole, sono tutti colpevole. Secondo te cosa manca? Manca un equilibrio, secondo me manca un equilibrio. Manca la pazienza di capire che questo campanato non lo vinci in partenza, non lo vinci con i nomi, non lo vinci e per il campionato diciamo vinciamo il campionato. Il campionato si vince in campo, con la cattiveria agonistica, con tutto. Quella che avevano loro oggi. Quella che loro hanno preso dopo i 30 minuti, perché noi abbiamo iniziato bene. E quello bisogna dire è che noi abbiamo iniziato bene, abbiamo giocato bene, sì. E poi loro hanno preso coraggio, abbiamo sbagliato alcuni passaggi, abbiamo sbagliato il normale. Perché loro sono andati lì su quegli errori, hanno preso coraggio. E quello fa parte di una partita, non poteva capitare a noi, come è capitato a loro. Perché anche noi. Poi è giusto, è giusto che ci mettiamo tutti in discussione, non solo il mister. Perché non è questione di essere insieme al mister. Noi siamo un gruppo, il gruppo non vuol dire 11 giocatori, il gruppo vuol dire tutti quanti che lavorano per il Padova. Il Padova deve essere un gruppo, tutti i tifosi, piazza, noi, i magazzinieri, quello che riempie l'acqua nella bottiglia.